Sono sicura che ci sia una soluzione da qualche parte. Ci sarà un modo per aprire quei cancelli. Un altro simbolo. Si fa interessante. Un altro simbolo. Un altro simbolo. Questa strada porta all'interno del Tempio. Ed è lì che andrò. Un altro simbolo. 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 Due nuove strade. Vediamo dove portano. Ci sarà un modo per controllare la parte anteriore della statua. Un altro simbolo. 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 Sì. Ci sarà un modo per controllare la parte anteriore della statua. Ci sarà un modo per controllare la parte anteriore della statua. Sì. 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 Grazie. La statua deve essere rimessa assieme correttamente. Una miniatura della statua, probabilmente usata come riferimento. Grazie. Grazie. Grazie.